Medico, che cosa ci consiglia? Ma cosa sta facendo soprattutto? Beh, insomma, io credo che un pasto assolutamente leggero sia ideale Quindi direi una lasagna per iniziare, una serie di ricchi antipasti Poi un bel cotechino E per divertirsi un po' però, medico Per divertirsi In che senso? No, magari giocare, qualcosa Tossisci, tossisci Non è una bella scena però in tv Noi di Firenze siamo medici, quindi in qualsiasi momento è buono per visitare Ho detto che non vedo più l'Europa Non si è ancora ripreso Questo è conciato, non mi vede più lì Da mercoledì Da mercoledì è un altro, guardalo Mi è dimagrito Si parte, vediamo subito la classifica Abbiamo giunto un punto, ovviamente al Milan e alla Fiorentina Milan che venendo questa classifica Elia non sorride più di tanto Però chissà mai che possa essere stato il derby della svolta Quello di mercoledì Milan che si avvicina con un punto alla Samp Ecco, in caso di vittoria ci sarebbe poi il sorpasso alla Viola e alla Martinelli L'apice stagionale vincendo il derby, bellissimo, emozionante, stupendo Da lì è un declino Ricordiamo chi è l'arbitro Ruiu? L'arbitro è sicuramente di Vinovo e si tratta di Banti Ah, tra parentesi, non Vinovo, ma arbitri Tra poco vediamo la Moviola, c'è quel rigore di Mertes Che grida vendette in tutta Italia Mimo si prepara i partiti, forza cronaca! Parte la Fiorentina con un lancio lungo Una curiosità, Andrea Il Milan oggi gioca a Firenze con lo stesso tridente della prima gara di campionato Quella di Crotone che vinse in scioltezza con Montella E non va, e non va Molto bene, il cronometro... Facciamolo partire, partiti pure con il cronometro quindi alla grandissima Forza, Viola, vedici! Sì, Pezzella... Capito, lo stesso tridente di Montella alla prima di campionato Pezzella, Pezzella la viene incontro Proprio Terun, Terun, allarga ancora sulla destra Ragazzi facciamo uscire Pugliani e Zanforlino, un caffè per tutti, grazie, prego Pallet mezzo su Bidello, Bidello cerco di metà campo Lasciai sui piedi adesso ancora di Eise Rick Sulla sinistra verrà tutto, verrà tutto La mette... Goll! E' ancora vivo! Sì, non è ancora zitto! Eccolo qua! Eccolo qua al pollo! Ecco qui anche oggi il pollo! Alla griglia! Alla griglia! Goll di Simeone! E anche oggi il pollo alla griglia da 8 milioni è servito! Mangiatevelo voi il pollo! Cialanoglu, all'indietro, poi riparte ancora Romagnoli Arriva a pressare Terun e la palla verso Cialanoglu Cambia gioco sulla destra dove va a raccogliere Suso L'altro quarto dell'area Spinge Calabria, tiene palla a Suso che entra in area Le sue finte, destra o sinistra Poi il tiro a giro, le spinte a corta Palla che resta lì Palla sulla destra dove può avanzare Ancora Davidino Calabria Si fa tutta la fascia Palla per Suso in profondità Ultimi secondi Va sul fondo Suso Fermato Rimesso in attacco del Milan L'arbitro la fa giocare perché c'è stato il cambio di Locatelli Dai è finita No c'è un cambio C'è stato il cambio Quindi ancora 20 secondi L'ultimazione del Milan Dai! Suso Mice la banderina L'esuzione Ma basta Sei già Veneziano Ma sei già uscito da una parte Rientri dall'altra Palla per lui Ancora Milan Prova a inventare Cosa fa Mettila in mezzo così Dai Perfetto Lancio di Borucci per Tiago Silva Che è un po' il nostro Andri Silva E finisce la partita 1-1 Un punto per parte Vediamo subito la classifica Milan che fa un piccolo passo Se non altro non perde rispetto alle ultime partite in campionato